Braccio di ferro! Sì, dai! Ora, non fraintendetemi. Io amo le donne in camera da letto e in cucina, ma al giorno d'oggi loro vogliono essere dappertutto, vogliono fare qualsiasi cosa. Quando finirà questa storia? Presto noi maschietti non potremo andare a un incontro di baseball, non potremo andare a pescare, andare a bere qualcosa dopo il lavoro. Ecco che succederà con questo femminismo. Dobbiamo fermarle! E Bobby Riggs è l'uomo in grado di riuscirci. Signore e signori, siamo alla resa dei conti. Sarà uno scontro fra un tennista e una femminista! Beccati questa. È giusto? Continua pure a parlare, Bobby. Più assurdità dici e peggio sarà per te quando perderai. Beh, sono il numero uno delle signore, sono il campione. Perché dovrei perdere? Perché i fossili non giocano a tennis. Trasformerò quest'incontro in un one-man show.